Iniziamo da Gaia Bernarella, ok? Buonasera a tutti, sono Gaia Bernarella del Meetup per Interracina. Sono stata scelta dal gruppo, prima dal mio Meetup territoriale, poi abbiamo fatto delle assemblee provinciali che hanno portato alla designazione dei candidati. Siamo un gruppo che lavora molto bene, siamo fiatati, siamo intercambiabili, questa è una cosa che mi auguro di rendere che si estenda anche al gruppo di un'altra regione. Abbiamo portato la nostra competenza e le nostre esperienze, siamo tanti, piccoli, abbiamo voglia di somma conoscerci il più possibile, lavorare serenamente insieme. Io penso che comunque, è in modo che mi presenti personalmente, sapete di me tutto, è pubblicato sui vari intasto, quindi potete andare lì e farmi tutte le domande che potete. E niente. La vuoi una domanda più o no? Solo se la smetti di darmi lei. Non vuoi un dito? Non vuoi una domandina? La faccio un video al volo? Quanti anni? Quanti anni hai? 33. 33. Allora? Sono laureata in lingua e trattore di franieri. Ecco, vi prego tutti i candidati di raccontare un po' di sé, nel senso, anno, due, che lavoro fanno, così. Cosa pensi del piano casa che è stato approvato dalla Regione Lazio? Allora, il piano casa che è stato approvato dalla Regione Lazio è una cosa vericonda. Però, nel senso, tutto il problema nella nostra Regione è che nella sanità nel piano casa non si tengono troppo in considerazione le minoranze sociali. C'è alcune persone che, parlo di noi giovani, da poco laureati, che non avremo mai la possibilità di rientrare in queste liste che avranno la precedenza per rientrare a far parte della concorrenza all'ultima casa. Quindi, penso che fondamentalmente andrebbe da un attimo ristrutturato e andrebbe dato un po' di precedenza a quelle che sono le minoranze sociali. Va bene, ok. Bravo!